Ciao ragazzi e bentornati su paolodetrane.it Oggi vediamo insieme questo gioiellino qua Di cosa si tratta? Lo scopriamo subito insieme Allora come sapete, o forse non lo sapete ma ve lo dico adesso Da un po' di tempo ho questa Pocket, Blackmagic Pocket Cinema Camera Ok? Questa qua Cos'è? La Blackmagic Pocket Cinema Camera è una, a tutti gli effetti, una videocamera Chiamiamola così Che monta lenti intercambiabili Con, nel formato micro 4 terzi Ok? Sono lenti intercambiabili Ce ne sono, è uno standard che per esempio utilizza anche Olympus O Panasonic E altri brand che hanno scelto di utilizzare questa baionetta micro 4 terzi E anche il sensore è micro 4 terzi Ok? Per chi non la conoscesse magari poi farò una recensione sulla Blackmagic Pocket Cinema Camera Ma il problema di questa, di questa videocamera che funziona benissimo A me piace da morire per la sua portabilità, la sua qualità Registra, diciamo, registra in RAW Quindi formato video RAW Oppure ProRes HQ Vari formati di ProRes Insomma, questo permette Insomma, questo permette davvero di poter fare un lavoro di color grading E di post-produzione video Molto, molto, molto più approfondito rispetto a un file Tra virgolette MP4 o MOV normale In formato MOV normale Ma a bando alle ciance Perché vi ho detto cos'è la Blackmagic Pocket Cinema Camera? Perché ha un difetto enorme Forse il più grande per me Non è un difetto, lo sapevo prima di comprarla E questo difetto qual è? È che il formato micro 4 terzi Difficilissimo da dire Crea un fattore di moltiplicazione con questa fotocamera Con questa videocamera Di 2,7 per Cosa vuol dire? Vuol dire che Un obiettivo 35 mm Si moltiplica per 2,7 volte E calcolatrice alla mano E calcolatrice alla mano 35 per 2,7 fa la bellezza di 94,5 Questo vuol dire che Quando noi utilizziamo un 35 mm In realtà è come se utilizzassimo quasi un 95 mm Quasi un 100 mm E questo può essere un problema Soprattutto quando ci si trova dove fare le panoramiche Quindi avere quando vogliamo un'apertura wide Un po' grandangolare Diventa davvero complicato Bisogna andare su obiettivi un po' Tra virgolette Un po' estremi E qui entra in gioco La recensione di oggi Wow Tutto sto preambolo per arrivare a questo obiettivo Samyang F3,5 7,5 mm Ok? Quindi questo è un Quello che sarebbe Nel mondo reale Nel mondo dei 35 mm Un 7,5 mm È un fisheye Un super grandangolo Un grandangolo molto spinto In realtà con questa Blackmagic Pocket Cinema Camera Riprendiamo la nostra calcolatrice E andiamo a vedere che 7,5 x 2,7 Fa 20,5 mm Quindi in realtà questo diventa un 20 mm Su questa Blackmagic Pocket Cinema Camera E devo anche dire finalmente Perché ho dovuto scegliere questo obiettivo? Proprio perché con questa videocamera Non riuscivo a fare riprese abbastanza ampie Quando ne avevo bisogno Ho un 28 mm Ho un 20 mm Ho un 35 mm Un 50 mm E erano tutti già dei Mediotele diciamo Ecco diventano tutti i Mediotele Per questo sono andato su questo Samyang E vediamolo insieme La qualità costruttiva di questo Samyang È niente male devo dire Quando si tiene in mano Ha il suo peso Ok? In tutti i sensi Nel senso che è completamente fatto in metallo E si sente Anche se la parte sopra Diciamo la ghiera di messa a fuoco per esempio Io credo dal suono che sia in plastica Ma il barilotto è tutto in alluminio L'innesto quindi la baionetta È in alluminio E rende Fa diventare questa pocket cinema camera Molto molto più versatile Allora La qualità delle immagini Lo potete vedere Nella descrizione Metterò il link ad un video che ho fatto Oppure anche qua Oppure qua Oppure qua Non lo so Adesso vedete voi Dove apparirà il link Comunque ho fatto un paio di video O quello che vi metterò nel link È girato Quando ho provato Il Beholder MS1 Il gimbal 3 assi Anche di quello Troverete il link Nella descrizione qui sotto E vi renderete conto che la qualità di questo obiettivo non è male È ovvio che se vi aspettate una super nitidezza Forse non è quello che fa per voi Ma devo dire che la qualità dell'immagine è più che sufficiente È una buona qualità di immagine Nel per quanto riguarda il video Non l'ho assolutamente mai utilizzato fotograficamente parlando Perché lo uso esclusivamente con questa videocamera E per fare video Non è troppo vignettato all'esterno I colori sono molto fedeli Cioè non distorge Non c'è una grossa aberrazione cromatica E neanche l'aberrazione Cioè la distorsione focale Devo dire che su questa Blackmagic Pocket Cinema Camera Non è troppo accentuata Proprio per il fattore di moltiplicazione Quindi non crea la classica immagine avvolgente Che creerebbe su un sensore di formato normale Quindi un 7,5 mm montato su una fotocamera normale Crea quelle immagini classiche super bombate Che sembrano quasi a 360 gradi Con questa Blackmagic non otteniamo questo effetto E io devo dire che per il prezzo che costa Intorno ai 300€ al momento in cui l'ho acquistato io Sono molto soddisfatto La qualità è molto buona Per il rapporto prezzo-qualità è ottimo Insomma in poche parole Io vi dico se volete un fisheye da utilizzare Soprattutto se avete anche magari un Olympus O una Panasonic E quindi potete intercambiarlo su diverse macchine Un acquisto che vi consiglio di fare È un super grand'angolo di qualità intermedia Che toglie diverse soddisfazioni L'unica pecca che ho trovato in questo obiettivo Praticamente parlando È che non ha autofocus Quindi è un obiettivo E questo lo potete vedere anche aprendo Vedete che non ci sono contatti autofocus Per l'elettronica Quindi è un obiettivo completamente manuale E questo può essere alcune volte Se non avete tanta pratica Può essere un problema Però considerate che è un super grand'angolo Quindi la messa a fuoco è Come dire Viene utilizzata relativamente poco Direi pochissimo Rispetto ad altri obiettivi Perché Almeno che non vogliate fare una macro Però da un metro in poi È tutto a fuoco Ok? Per capirsi Anzi direi Da Forse meno di un metro Forse 90 cm Ok? Da 90 cm in poi È sempre tutto a fuoco È ovvio poi che Il gioco Di messa a fuoco Per soggetti Che sono mediamente distanti da voi Più di un metro Un metro e mezzo È Si sposta La ghiera Sposterete la ghiera 1-2 mm Tra l'infinito E leggermente E poco prima Ecco 3-5 cm Come apertura massima Non è Il top Quindi in interni Magari Soffrirete un po' Però io Devo dire che Con questa Blackmagic Utilizzando Creando video a 1600 ISO Con pochissimo rumore Ho girato tranquillamente Anche in interni Senza Grossi problemi Senza illuminazioni artificiali Ma fuori All'aperto Con la luce diurna Lavorate tranquillamente A 200 ISO E ottenete immagini Più che soddisfacenti Bene In poche parole Come sempre Sapete che io non sono Un super tecnico Non vado nel dettaglio Ma cosa vi voglio dire Vale la pena? Non vale la pena Vale la pena? Non vale la pena Beh Secondo me Per il prezzo che costa Ne vale assolutamente la pena Soprattutto se avete Una di queste Blackmagic Pocket Cinema Camera O se avete Una Olympus Una Panasonic O tutte le altre marche Che Che utilizzano Il formato Micro 4 terzi Devo dirvi Una cosa in più Che Con un adattatore Potete montarlo Praticamente Su qualsiasi Altra macchina Fotografica O Mirrorless Che voi Avete Visto che Comunque Non ha Non è compresa L'elettronica Quindi non è un obiettivo Autofocus Non perderete Assolutamente niente E volete montarlo Su una Nikon Potete farlo Volete montarlo Su una Sony Lo potete fare Basta andare su Amazon E cercare Adattatori Ce ne sono Di tutti i tipi A dei prezzi Anche abbastanza contenuti Soprattutto quando Parliamo di obiettivi Manuali Quindi Dove non volete Ecco Se volete mantenere L'autofocus Non nel caso Di questo obiettivo Specifico Magari di un altro Magari dovete utilizzare Dovete comprare Degli speed booster Che sono adattatori Che diciamo Adattano anche L'autofocus E lì Beh La spesa È tutta Un'altra storia In questo caso Forse con 40 O 50 euro Ma a volte anche meno Trovate un adattatore Che fa Al caso vostro E potete montare Questo obiettivo Su qualsiasi Fotocamera Avendo Avendone Delle discrete soddisfazioni Almeno così È stato per me Bene Qualità Buona Prezzo Non male Immagini Very good Io Non posso fare altro Che consigliarvi Questo piccolo obiettivo Molto portatile Molto leggero Compatto Io Ho grossi difetti Devo dire Che non ne ho Proprio Trovati Spero Che possa essere Stato utile Questa piccola Recensione Del Samyang 7,5 mm F3.5 Se non è stato così Mi dispiace Se è stato così Fate un like A questo video Iscrivetevi al canale E ci vediamo Ancora Per il prossimo Video